questa sera abbiamo avuto il piacere di avere di riavere sul palco di trame festival pif lei ha parlato tra l'altro della sua nuova applicazione per smartphone e tablet no ma l'applicazione che guida chiunque attraverso le strade le vie di palermo in quei luoghi che hanno diciamo segnato la storia d'italia e durante le guerre di mafia ecco a quale via palermitane più legato pif vie a quale via a quale via della sua presente nella sua app è più legato ma in realtà più che altro noto di più quelle dove banalmente quelle vicino casa mia perché sai negli anni negli anni sessanta i palermitani da palermo vecchia si spostarono nella palermo nuova pensando cioè la vivevano come manattan l'idea di abbandonare quelle case vecchie bellissime e spostarsi nella parte nuova era il desiderio di tutti quindi io sono cresciuto dalla parte nuova quindi ci sono tutto una c'è un quartiere vicino casa mia dove sono stato ucciso non so tre quattro forse cinque persone quindi ecco quella zona l'acqua conosco meglio è quella che fa più impressione più altro che altro quella intorno a villa sperlinga cioè a piedi si raggiunge boris giuliano libero grassi rocco chinnici caloggio zucchetto e per santi mattarella per fatti capire da dove nasce il suo modo critico innovativo e dissacrante anche direzzi di relazionarsi col fenomeno mafioso e pure intelligenza io c'è questo mix esplosivo fra bellezza e intelligenza che mi fa entrare in qualunque non stavo scherzando e non lo so mi viene spontaneo raccontare le cose così non è studiato fortunatamente però va bene quindi pago l'affitto senza problemi però so che potrebbe finire da un momento all'altro non credo dopo ci scambiamo in un allargerà la rete di noma ad altri luoghi tipo la calabria e la mezzia assolutamente sì insomma questo è un app che è nata un po fra amici e la gente che è stata coinvolta non si è auto coinvolta perché parlando ma io faccio video e ora siamo a più di 100 mila download più di 100 mila persone hanno scaricato l'app che tra l'altro ovviamente gratuita e sta diventando una cosa seria ora lunedì sono a palermo il 18 e per presentare altre sette storie ma l'idea è perché ci hanno contattato dalla campagna o parlando con una giornalista calabrese mi ha detto ma perché non si fa anche in calabria purtroppo le storie a raccontare sono tante quindi il nostro le nostre idea è di non solo uscire fuori palermo e raccontare la sicilia ma fare anche noma campagna e noma calabria perché lo trovo particolarmente ingiusto che 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 la gente io per primo non la gente non sappia si sia dimenticato le storie queste persone però per dimenticare come dire prima devi conoscere poi dimenticare il problema è che in certi casi proprio neanche si sono conosciute queste storie quindi non si sono dimenticate semplicemente perché non si ricordano perché non si conoscono e quindi prima dobbiamo farle conoscere perché per sempre per rimanere in sicilia e adesso i giudici uccisi alla mafia più famosi che la gente conosce sono falcone borsellino e si non si conoscerò cochinnici non si conoscono tanti altri ci sarà un momento in cui la gente ora sembra strano ma il rischio è alto che non si ricorderà la gente si ricorderà più neanche di paolo borsellino di giovani falcone bisogna trovare degli strumenti anche nuovi un linguaggio moderni per per ricordarli e secondo me l'app era una delle cose più moderne ma c'è che si possa usare c'è l'app per qualunque o anche per spostare una serie di scarichi l'app quindi credo che il linguaggio che usiamo noi sicuramente la sua app aiuterà a mantenere viva la memoria pif a trame festival